Alcmeone di Crotone un nome che risuona attraverso i secoli, portando con sé il fascino dell'antica Grecia e il progresso della medicina. Scopriamo insieme la storia di questo illustre personaggio. Le origini della medicina La questione delle origini della medicina è dibattuta, ma sappiamo che le prime scuole mediche si svilupparono nella Magna Grecia, in Sicilia e in Calabria. Tra queste, la scuola pitagorica riveste grande importanza. Pitagora, originario dell'isola di Samo, si trasferì a Crotone, portando con sé la teoria dei numeri e la concezione di quattro elementi fondamentali, terra, aria, fuoco ed acqua. Questi elementi, combinandosi, formano i quattro umori del corpo umano, sangue, flegma, bile gialla e bile nera. Alcmeone di Crotone, medico e naturalista alcmeone, vissuto tra il V e il VI secolo anno corrente. Fu un medico e naturalista. Prima della sua scuola, le terapie consistevano in riti magici e purificazioni. Tuttavia, Alcmeone fu il primo a concepire l'uomo come un microcosmo costituito dagli stessi quattro elementi di Pitagora. Egli introdusse il concetto di isonomia o democrazia come equilibrio degli elementi, determinante e per la salute. La malattia, invece, derivava dalla monarchia ovvero dal predominio di un elemento sugli altri. Contributi alla medicina ILA-LCM, Iwan utilizzò la musica come terapia, considerando l'espressione di armonia che poteva ristabilire l'equilibrio fra gli organi del corpo. Scrisse un trattato intitolato, Ulla Natura, di cui ci parlano di oggi nell'Aerzio e Plutarco. Gli si attribuiscono anche la scoperta della tromba deustacchio e dei nervi ottici, rendendolo uno dei padri dell'anatomia umana e della fisiologia eredità duratura. Alcmeone di Crotone rimane un faro nella storia della medicina, un pioniere che ha gettato le basi per la comprensione del corpo umano e il suo equilibrio. La sua visione biologica e il suo metodo scientifico hanno influenzato generazioni di studiosi e medici successivi. Gli antichi medici si trovavano di fronte a numerose sfide mentre cercavano di curare i malati e comprendere il funzionamento del corpo umano. Ecco alcune delle principali sfide. Limitate conoscenze anatomiche, l'assenza di strumenti diagnostici avanzati e la mancanza di dissezione dei cadaveri rendevano difficile comprendere l'anatomia umana. Gli antichi medici dovevano fare affidamento su osservazioni esterne e teorie speculative. Teorie mistiche e magiche, molte culture antiche attribuivano le malattie a cause mistiche o divine. Gli antichi medici dovevano bilanciare queste credenze con l'approccio razionale alla cura. Limitate risorse terapeutiche, mancavano farmaci efficaci e trattamenti specifici. Le terapie spesso si basavano su rimedi naturali, erbe medicinali e rituali di purificazione e punto igiene e contaminazione. La mancanza di igiene e la diffusione di malattie infettive rendevano difficile prevenire la diffusione di infezioni. Gli antichi medici dovevano affrontare epidemie senza conoscere le cause reali. Comunicazione e formazione, la mancanza di una comunicazione globale e di una formazione standardizzata, rendeva difficile la condivisione di conoscenze tra medici di diverse regioni nonostante queste sfide. Gli antichi medici hanno contribuito significativamente alla medicina, aprendo la strada a progressi futuri. Alcune delle figure più influenti nell'antica medicina includono Ippocrate di Cos considerato il vero, fondatore della medicina antica. Ippocrate 630-370 anno corrente circa fu un professionista itinerante che esercitò in vari luoghi. A suo nome ci è giunto un corpus ippocraticu, anche se è difficile distinguere quali di questi 42 scritti medici potrebbero risalire a lui stesso. Punto Asclepio figlio del semidio Asclepio, Asclepio era ritenuto capace di far tornare dalla morte. In suo onore furono eretti i templi appositi, detti Asclepiei, dove i malati venivano sottoposti a purificazione e interpretazione dei sogni per ricevere una cura al razzi. Azzes importante figura nell'antica medicina araba, al razzi fu un medico, chimico e filosofo. Le sue opere hanno contribuito significativamente alla conoscenza medica del suo tempo Ibn Sina Avicenna. Un altro grande medico arabo, Ibn Sina, noto anche come Avicenna, scrisse l'opera L. Canone della medicina, che ebbe un impatto duraturo sulla medicina medievale europea. Al-Zarawi Abulkasiz, medico-chirurgo arabo, al-Zarawi è noto per il suo trattato Al-Khita Baltasrif, che copre vari aspetti della medicina e della chirurgia. Questi pionieri hanno contribuito in modo significativo alla comprensione e alla pratica della medicina nel mondo antico, lasciando un'eredità a duratura per le generazioni successive.